Ci troviamo su una panchina del parco dedicato a Sparta e Lea Trivella, parco di Viabecci a Villa San Martino, parco che come potete vedere è stato transennato per un episodio molto grave successo nel lunedì di Pasquetta. Sono stati trovati dei bocconi di polpette avvelenate proprio su questo parco e si è rischiato grosso, si è rischiata una tragedia, una malcapitata cagnolina, ha dentato questo boccone, però la nota lieta è che a pochi giorni di distanza la cagnolina sta molto meglio, siamo qui con la padrona Giulia, la cagnolina Sofì che vediamo qui a fianco a noi, dunque un lieto fine che non toglie la gravità dell'episodio. No, in effetti no, è un episodio molto grave non solo per i cani ma anche per il fatto che qui ci sono tanti bambini. Quando è successo lunedì questo episodio i miei cani stavano giocando con i bambini proprio vicino a questi bocconi di carne, non ci eravamo accorti nessuno, fino a che Sofì non ne ha dentato un pezzo. Per fortuna io per istinto le ho aperto subito la bocca, gliene ho tolto una parte, ma una parte l'ha mangiata perché chiaramente essendo carne si è subito sciolta e niente, da lì è iniziato il calvario perché poi ho dovuto farla vomitare, ha vomitato roba blu, quindi il veleno, ho dovuto farle le flebo perché chiaramente era disidratata, ho dovuto darle carbone attivo perché col carbone attivo vengono assorbiti dei residui di veleno se ancora ci sono. Quindi insomma è stato un calvario anche perché il cane chiaramente era sfinito e io ero preoccupatissima, ho subito avvisato tutto il vicinato, ho fatto mandare via i bambini, ho fatto mandare via gli altri cani, ho fatto mandare via tutti gli animali che potevano esserci, le persone che c'erano. Per fortuna si è risolto bene, l'abbiamo presa in tempo e soffista bene, però è stato veramente molto difficile perché in una frazione di secondo devi realizzare quello che sta capitando e quello che stava capitando era che il mio cane poteva morire. Poi sai, mille pensieri perché con tutti i bimbi che c'erano mi è venuto da pensare e se ci sono bimbi che magari inavvertitamente toccano queste cose e poi mettono le mani in bocca, cosa succede? La carne la stanno analizzando, sembra che sia veleno di lumaca. Il veleno per la lumaca è un veleno molto molto potente, provoca una morte lenta, dolorosa, crampi e non è una morte immediata, possono passare anche dei giorni. Quindi tutti questi pensieri chiaramente ti distruggono, ti distruggono dentro perché non sai se riesci a salvare la vita al tuo cane. Per fortuna è andata bene perché il veterinario mi ha aiutato tantissimo, perché io un po' in panico ero, però il veterinario è stato veramente bravo, mi ha aiutato e mi ha detto come dovevo comportarmi per darle subito i primi soccorsi. E poi niente, l'ho portata in clinica e lì ci hanno pensato loro a salvarmela. Dunque Giulia, decisiva la tempestività di intervento e la bravura del veterinario? Sì, assolutamente sì, anzi colgo l'occasione di ringraziarla personalmente, è la dottoressa Torelli Carla che è stata veramente di aiuto tantissimo perché al telefono lei mi ha guidato e mi ha detto quello che dovevo fare per darle appunto i primi soccorsi. Ecco, ora l'episodio è grave, c'è anche la caccia ai responsabili, tu Giulia hai fatto denuncia? Sì, 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 ho fatto subito denuncia alla forestale e chiaramente sono intervenuti subito a controllare il parco, anche perché purtroppo sono stati trovati altri pezzi di carne lungo il parco, lungo tutto il tragitto e in altri punti e in altre zone. Quindi sì, abbiamo fatto denuncia e perciò stanno cercando i responsabili. che mi auguro trovino, perché è una cosa veramente gravissima. Ce l'auguriamo anche noi e speriamo che sia davvero l'ultima occasione in cui siamo costretti a parlare di un episodio tanto spiacevole. Grazie. Grazie.